Buongiorno da Obiettivo News. Il santo di oggi, il 19 febbraio, è beato un corrado con falonieri. Oggi non tutti sanno che è anche il Lush Day, ovvero la giornata mondiale delle ciglia, per promuovere l'importanza di una corretta cura delle ciglia. È un giorno utile per notare e apprezzare le ciglia vere e finte e la bellezza che aggiungono al nostro look. Le ciglia sono note per far esaltare i nostri occhi e distinguersi della massa. Svolgono anche un ruolo ancora più importante nell'aiutare a proteggere i nostri occhi da sporco, germi e oggetti estranei e impedire l'evaporazione dell'umidità lubrificante nei nostri occhi. L'origine dei cosmetici per abbellire le ciglia risale al 4000 a.C., quando il cold divenne popolare per l'ospuramento delle palpebre nell'Antico Egitto. Si dice che il mascara moderno non tossico abbia avuto origine in Francia nel 1913, prima che iniziasse a prendere piedi negli Stati Uniti, anni dopo. Con il debutto del mascara Maybelline, la cui formula era composta da un mix di vaselina e carbone ed è stata sviluppata dal suo fondatore, Thomas Williams. Nelle giornate nazionali delle ciglia, tutti sono incoraggiati a prendersi cura delle loro ciglia spesso trascurate. Un fatto interessante sulle nostre ciglia, che sono costituite per il 97% da keratina, la proteina strutturale chiave che si trova in unghie, fiume, corna e archigli. Si ritiene inoltre che le ciglia crescano fino a una media di oltre 3 pollici di lunghezza, con quelle più vicine al centro, di solito più lunghe, e quelle ai lati della palpebra. E anche le ciglia sulla parte della superiore, in genere, diventano più piene di quelle in basso. Di solito la parte superiore ne avrebbe tra le 200 e le 300, mentre la parte inferiore circa 100. E' stato anche recentemente scoperto che le nostre ciglia in genere iniziano a crescere prima della nascita come embrione tra la 22esima e la 26esima settimana di previdanza.